bentornati con le nostre lezioni di storia iniziamo ora il capitolo 12 analizzando insieme da pagina 258 a pagina 262 questa lezione non spiegherà tutto di queste pagine bensì il mio interesse oggi è solo analizzare insieme due immagini ma due immagini molto ricche di informazioni per cui quelli che spiego in questa lezione sono i punti principali i punti salienti di queste pagine ci sono alcune parti che vi dovrete studiare da soli sul libro guardando il video di sottolineature che trovate insieme a questa lezione bene il capitolo 12 è intitolato l'apogeo della civiltà medievale abbiamo già visto insieme che apogeo significa il periodo di maggiore splendore di maggiore ricchezza significa che stiamo studiando il periodo del medioevo più ricco in cui da tanti punti di vista dal punto di vista religioso dal punto di vista culturale dal punto di vista economico dal punto di vista ecco politico dal punto di vista anche architettonico siamo nel periodo in cui da tutti questi punti di vista si è raggiunto il massimo i risultati migliori ed è questo il momento in cui tutte le cose positive tutte le ricchezze dei secoli precedenti per cui per esempio i monaci o tante cose positive che abbiamo visto negli ultimi secoli nei capitoli precedenti qui come dire esplodono e danno vita a una civiltà molto ricca fatta dai comuni in europa come abbiamo visto nascono tanti comuni che diventano molto ricchi e molto potenti e soprattutto che inaugurano un nuovo stile di vita vediamo queste pagine in particolare il paragrafo 1 intitolato verso il pieno sviluppo della società comunale allora la prima immagine che vorrei commentare insieme è quella che ci propone il libro all'inizio del capitolo a pagina 258 raffigura la fondazione di alessandria e vorrei osservare insieme il dettaglio che ci ripropone il vostro libro innanzitutto osserviamo cosa stanno facendo queste persone è molto semplice scusate è molto semplice sembra che stiano costruendo un palazzo è più che un palazzo questo ingresso è un simbolo per indicare la costruzione di tutta una città guarderemo tante immagini ne abbiamo sempre guardate in questo periodo in cui siamo chiusi in casa ne guarderemo ancora di più ricordatevi sempre che nelle immagini che guardiamo ci sono dei simboli spesso le immagini che guardiamo non sono da prendere alla lettera ma sono piene di simboli che se guardate attentamente ci rivelano tante cose per cui questi uomini stanno costruendo un palazzo ma il palazzo in questo caso è un simbolo per indicare la costruzione di un'intera città alessandria se vi ricordate era la città che la lega lombarda ha costruito in onore del papa alessandro terzo andatevi a rinfrescare il conflitto fra i comuni e barbarossa per chi non si ricordasse questo dettaglio vediamo questi uomini che stanno costruendo una città questo che cosa ci dice ecco quando guardiamo un'immagine chiediamoci sempre abbiamo capito questo simbolo ma che cosa ci dice del periodo storico che stiamo guardando perché ci interessa guardare questa immagine vediamo tanti uomini che insieme costruiscono una città questo ci indica che in questo periodo storico furono costruite tante nuove città e che la gente si mette insieme le persone si mettevano a lavorare insieme per costruire un nuovo modo di vita per costruire tante città per scoprire tante cose insomma c'è una grande creatività la seconda cosa da notare sono i vestiti anche qua un'indicazione di metodo che sarà valida sempre per gli anni a venire quando si guarda un quadro quasi sempre vale la pena di prestare attenzione ai vestiti perché i vestiti i vestiti ci descrivono chiaramente un aspetto in particolare delle persone se guardate le due immagini che sono appena comparse si distingue subito proprio dai vestiti un uomo ricco o comunque benestante da un uomo povero i vestiti da sempre sono un ottimo elemento per distinguere i ceti sociali delle persone per distinguere un uomo ricco da uno povero la cosa che vorrei farvi notare in questa immagine è che i vestiti sono uguali facciamo fatica a distinguere dai vestiti un uomo più importante degli altri un capo e dei sottoposti sono tutti uguali questo perché perché nei comuni non solo si costruiva tanto non solo c'erano tante nuove idee tante nuove costruzioni un nuovo modo di vivere ma non c'era più quel sistema tipico del feudalesimo quel sistema feudale a piramide per cui c'era sempre un uomo sopra un altro ci ricordiamo quel sistema a piramide per cui c'era il contadino che prestava giuramento al vassallo e lavorava per lui no nel comune non ci sono superiori né inferiori infatti l'introduzione del vostro libro a pagina 259 intitola così l'area delle città rende liberi e creativi questi due elementi insieme nelle città c'era un certo stile di vita non c'erano più i signori i padroni i vassalli i vescovi conti e poi tutti i contadini che prestavano giuramento e che dovevano servire i padroni leggiamo l'età comunale si caratterizza per un rinnovato clima di libertà all'interno dei comuni infatti la servitù non esisteva più e non vigevano le regole feudali che sottoponevano gli individui a superiori da cui dovevano dipendere in tutti i campi da quello economico a quello politico da quello religioso a quello artistico e culturale questo clima favorì un rinnovato fervore che si tradusse in creatività voglia di protagonismo spirito di intraprendenza e nello spi e nello sviluppo di idee nuove originali le nuove tecniche mercantile bancarie le corporazioni le confraternite gli ordini mendicanti le università lo sviluppo del romanico e del gotico ne sono alcuni significativi esempi ecco quest'ultima queste ultime quattro righe accennano a delle cose a degli aspetti che approfondiremo nelle prossime lezioni ma ci fanno capire di quante cose nuove nascono in questo periodo nasce una nuova arte nasce un nuovo tipo di lavoro un nuovo modo di lavorare un nuovo tipo di organizzazione dell'economia un nuovo tipo di governo politico delle città nascono tante nuove città riprendono i commerci anche la religione scopre delle forme nuove nascono le università insomma una vita che esplode potremmo dire così però perché c'è questa vita che esplode perché gli uomini erano liberi uomini liberi e creativi il rovescio della medaglia però qual è che in questo con questi comuni dove i cittadini governavano insieme la città e la costruivano insieme non tutti erano accettati leggiamo la fine dell'introduzione a pagina 259 purtroppo però vi anche il rovescio della medaglia quella comunale era una società fortemente strutturata nella quale tutti i suoi membri erano legati da profondi vincoli di appartenenza e condividevano valori e ideali comuni quindi da un lato i cittadini del comune erano uniti da forti ideali comuni credevano tutti nelle stesse cose sia dal punto di vista religioso ma proprio anche nel modo di vivere proprio per questo però e andiamo avanti a leggere chi in qualche modo non si riconosceva in questi valori e stili di vita come gli ebrei o contestava alla radice come i catari veniva visto come una minaccia e quindi era emarginato escluso combattuto anche con estrema violenza non tutti quindi facevano parte allo stesso modo di questo nuovo clima di libertà e di creatività nelle città tutto questo ci viene detto dalla prima immagine che abbiamo visto ricordiamoci costruzione di una città simbolo di una nuova creatività e vestiti tutti uguali simbolo di libertà di una uguaglianza delle persone la seconda immagine che voglio mostrarvi la trovata pagina 261 rappresenta le bandiere delle diverse contrade senesi ci dice il libro cosa sono le contrade senesi cosa significa in questo periodo siena diventa una città molto ricca molto potente e si divide in tanti quartieri ogni quartiere ha la sua bandiera e il libro ci spiega bene perché e adesso proviamo a capirlo partiamo dal titolo della slide l'uomo non viveva da solo che anche il titolo che trovate in uno dei paragrafi del libro l'uomo non viveva da solo perché perché il cittadino del dei comuni nel medioevo faceva parte di tanti gruppi in città le persone si riunivano in base agli interessi comuni per aiutarsi l'un l'altro nessuno viveva isolato dagli altri in particolare c'erano due tipi di gruppi di appartenenza che tutti vivevano l'appartenenza territoriale quindi i quartieri le persone che vivevano nello stesso quartiere erano molto unite tra di loro addirittura l'esercito della città per esempio era formato in diversi battaglioni che erano costituiti dai quartieri ogni quartiera un battaglione perché perché gli abitanti dello stesso quartiere erano amici erano legati tra di loro si difendevano più l'un l'altro erano più motivati per difendersi l'un l'altro quindi da un lato i quartieri ogni cittadino si riconosceva membro del proprio quartiere questa è una dimensione che noi abbiamo un po perso un po dimenticato dall'altro lato la famiglia e il libro lo spiega bene quindi non lo ripeto qua ma la famiglia era intesa in modo molto più largo perché nella stessa abitazione nella stessa casa non vivevano solo i parenti stretti ma anche la parente allargata c'erano tante altre forme di aggregazione di unione fra le persone le altre due principali sono quella basata sul lavoro infatti si formano le corporazioni di arti e mestieri significa una cosa semplice che chi faceva lo stesso lavoro si riuniva come in un'associazione per aiutarsi a vicenda per migliorarsi l'un l'altro per scambiarsi consigli per difendere i propri diritti di fronte al governo del comune quindi le corporazioni di arti di mestieri ovvero associazioni di gente che faceva lo stesso lavoro infatti c'è la corporazione dei fabbri la corporazione dei falegnami e così via e poi le confraternite religiose sia le corporazioni che le frate le confraternite le studieremo meglio ma anche qui chi condivideva la stessa religione si riuniva per pregare meditare fare attività questi quattro gruppi queste quattro appartenenze erano vissute da ogni cittadino capiamo bene quindi che un cittadino di un comune non viveva da solo se aveste chiesto a un cittadino di un per esempio di siena o di milano del 1200 ma tu chi sei lui vi avrebbe risposto io sono tizio quadernario ho inventato un cognome qualsiasi del quartiere tra dei tali la mia famiglia al cognome x faccio parte della corporazione y e partecipo a questa confraternità religiosa sulla loro carta d'identità tra virgolette c'erano scritte tutte queste cose ripeto questa della carta d'identità era un'immagine metaforica non avevano le carte d'identità ripeto non ho detto tutto quello che c'è sul libro vi dovrete studiare alcune informazioni in più da soli ma questo è il succo buono studio